Fame e malnutrizione sono ancora oggi la drammatica realtà quotidiana per circa 800 milioni di persone. In questa cifra sono inclusi circa 160 milioni di bambini sotto i 5 anni. Il cammino per azzerare fame e malnutrizione è ancora lungo, ma in questi 15 anni tanti progressi sono stati fatti, anche grazie al tenace lavoro compiuto dalla FAO, per il quale ringrazio il direttore generale, Giosè Graziano da Silva. La fame è stata dimezzata, la povertà assoluta è stata fortemente ridotta. Sono le basi da cui ripartire. La generazione fame zero sta per nascere e noi vogliamo accoglierla.